bentornati nell'angolo dell'unboxing con la parte 2 delle cassette che ho comprato al negozio mercatino dell'usato nella scorsa puntata abbiamo visto queste quattro cassette tre da edicola e una originale della master tronic adesso le mettiamo via perché andiamo a vedere altre cassette altre cose le mettiamo qui per ora le mettiamo da parte andiamo a vedere altre cassette queste qui ecco avviciniamo anche un po la camera se riusciamo queste qui che non abbiamo visto la scorsa puntata ce n'è un'altra con il nastro marrone vediamo poi cassetta è un'altra cassetta della publi rom nel frattempo mentre io faccio il solito lavoro di togliere lo scotch e riavvolgere il nastro come ho fatto nella scorsa puntata ok se puntate mi sa che vanno anche nella serie di con la c64 giustamente allora vi racconto cosa un po cosa è successo in pratica io sono andato lì a comprare ste io non mi aspettavo di trovare delle cassette il comodo anche se avevo avuto come vi ho detto nella scorsa puntata ho avuto un sogno una specie di sogno premonitore cacchio qua devo stare attento per non rovinare attenzione cercate di non rovinare nulla facciamo così ecco se non si apre perché hanno messo l'adesivo proprio eccolo qua sono riuscito ok adesso si apre è rimasto un pezzo adesivo qua poi con calma mi metterò io a pulire anche se questi queste etichette c'hanno un adesivo esageratamente potente che non si leva mai 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 e che è la dannazione di ogni collezionista che va in questi mercati aspetta questo forse si rimuove facile rimane un po appiccicoso forse però aspetta proviamo ah vi dico anche una tecnica guardate una tecnica quando andate al mercatino allora sta cosa non la fate sul cartone la fate solo se tipo c'è plastica come in questo caso quando andate al mercatino e trovate queste etichette infami incollatissime potete fare una cosa una volta tolta voi utilizzate la colla residua qui per togliere i residui di colla che sono rimasti sulla eventualmente sulla cassetta ok quindi fate così guardate sac sac nel frattempo mentre faccio questi lavori di pseudo restauro vi racconto cosa è successo lì in pratica ho trovato queste cassette no e c'erano sta decina di cassetta del commodore tra cui due dell'armati poi invece questa big box stava in una vetrina a parte infatti l'ho pagata molto di più delle altre ma ne parleremo dopo e in pratica ho preso tutte queste cassette che in realtà non erano queste 12 che vedete qui ma erano 13 e io sono andato al balcone io ho detto queste le piglio tutte però mentre le poggiavo sul bancone ho visto al lato c'era una delle cassette che non era del commodore perché c'era scritto tipo jetemma una cosa del genere allora l'ho presa ed era una cassetta d'incantante francese allora io ho detto queste le ho messe sul tavolo sta cosa al volo proprio mentre le mettevo sul tavolo non data allora io ho detto queste le piglio tutte poi ho tolto quella di mezzo e ho detto tranne quello messa al lato ho detto tranne questa perché c'erano anche due collezionisti dei vinili che stavano guardando dei dischi in vinile no accanto allora io ho messo le cose sul tavolo detto queste le cassette del commodore le piglio tutte le ho detto le ho poggiate poi ho visto quella cassetta l'ho levata detto tranne questa che è di charles asnavour io ho detto allora c'erano i due collezionisti lì che c'erano più o meno la mia età forse qualche anno in più però io voglio dire non mi riconosco in quella generazione perché mi sento un po più giovane di loro forse è solo la mia impressione mentale non lo so però mi sento e forse c'ho anche l'aspetto di essere un po più giovane di loro comunque mi hanno cominciato a dire sì però comunque dai più o meno erano giovanili anche loro più o meno sì più o meno io sono più giovanile e in pratica mano come mano si due hanno visto la cassetta di charles hanno visto che era il il loro pane perché loro erano collezionisti di musica non io quindi hanno quando hanno visto la cassetta hanno detto vabbè ma fa una cosa prova a metterla nel commodore vedi che succede io ho detto sì se la metto il commodore impazzisce perché chi lo conosce quel cantante lì francese molto famoso molto bravo però fa pure delle canzoni che ti fanno scendere il latte le ginocchia insomma e insomma ho detto impazzisce il commodore e quello ha detto no magari che ne sai comincia a parlare francese il commodore diventa le commodore vabbè ha fatto la battuta è stato simpatico comunque ok si incontra anche gente simpatica nei mercatini allora qui c'è questa la dobbiamo andare indietro raga dobbiamo andare indietro dobbiamo usare intanto ho tolto la colla come vedete la colla è andata tutta via ha rimasto questo qua fermi tutti la striscietta la striscietta non solo è rimasto residuo qua porca vacca ok abbiamo tolto anche la striscietta ok questo lo leviamo facciamo una pallottolina e qua sempre con la colla residua andiamo a togliere il residuo che sta sulle mi sembra quasi perfettamente pulito qua diciamo che sulla trapazza di trasparente un po rimasto un po d'alone poi dovrò pulire bene si è rimasto anche un po di scotch qua eh vabbè sto lavoro lo devo fare dopo perché ci metto parecchio a farlo vedete un po lungo la questo procedimento un po lunghetto purtroppo è quasi la plastica trasparente è più difficile togliere la colla vedete è complicato vabbè poi lo faccio dopo bene sto lavoro intanto leviamo sta roba queste quali leviamo ok allora tra l'altro io gli ho chiesto allo stesso come si dice già che c'ero gli ho chiesto ma non è che per caso c'hai anche quelle cassette dello spectrum che ti avevo lasciato l'altra volta ebbene sì perché sapete che è successo io tempo fa cercavo delle musica 7 per sostituire i box rovinati delle vecchie cassette del commodore no quindi cercavo cassette a poco prezzo tipo questa costa 55 centesimi se tu invece vai a comprare una custodia di plastica in un negozio di musica te la fanno pagare a minimo minimo due euro solo la custodia senza la cassetta dentro ok quindi conviene andarsi a prendere queste qua no queste cassette qua allora che succede mentre cercavo un mezzo a queste cassette musica cassette antiche vecchie roba pure anni 60 c'era tipo quella di questa qua degli anni 60 riga ok mentre cercavo in mezzo c'erano delle cassette dello spectrum a l'ho preso e glielo date al al commesso e io ho detto guarda a mezzo alle cassette auto c'erano queste che però non so cassette audio sono cassette di un vecchio computer anni 80 che si chiamava spectrum sinclair spectrum ok allora quella presa l'ha messa da parte io non so dove l'ha messa quei cassette però oggi sono dopo aver comprato tutte queste cassette del commodore sono andato da lui gli ho detto ma senti ma poi quelle cassette dello spectrum ce l'hai ancora detto no non ce l'ho più detto ah ma l'ho venduta dice sì sì l'ho venduta vabbè ok quindi qualcuno mi ha soffiato le cassette perché io non le colleziono le cassette specie però un gioco spectrum ce l'ho da parte che era wizard wars non so se l'avete visto o qua non riesco a girare tutta questa cassetta nel frattempo vediamo che giochi sono all'interno di questa cassetta qua ci abbiamo football americano uomo dei boschi castelli di ghiaccio canoa robbit che evidentemente un robot poi la storia umana che mi sa che dei questo qua è di human race quello con le musiche di rob babbard che nella scorsa puntata abbiamo trovato l'altro evolution no che fanno il paio sti due giochi e poi sai contare e il pugile allora sono curioso di vedere cassetti di ghiaccio sicuramente quello dell'orsetto che deve prendere crystal castles no l'orsetto che deve prendere i pallini il gioco dell'atari sono curioso di sapere che gioco è l'uomo dei boschi e anche la storia umana qui intanto non riesco a c'è acqua per girare tutta questa cassetta allora intanto mentre finisco di girare paggiamo un attimo qua cassetta andiamo un attimo a vedere qui su uomo dei boschi che gioco è l'uomo dei boschi fate un salto indietro del tempo magari fino al decimo undicesimo secolo del mezzo del medioevo e trasformatevi in un avventuroso boscaiolo e quanto vi accadrà quando giocherete a uomo dei boschi una grande foresta molto intricata e siete un simpatico ladro ma non era un boscaiolo ma sono ladro ricercato dalle guardie reali del principe gioco ah quindi robin hood quindi questo qua è il gioco quello che sta anche sul c64 mini ovvero robin of the hoods mi pare sentito lì se non erro è il gioco quello dove fai robin hood che sta in mezzo alla foresta di sherwood ok poi castelli di ghiaccio casetta maga malvagia reggelo e si mi sa è quello è quello là non lo so poi magari li vedremo si gioia uno per uno la storia e il destino umano ne sono nelle tue mani il potere di conoscere ciò che è stato e ciò che sarà eh no questo è lo stesso gioco è quello evolution sì è quello là evolution non è human race con le musiche di roba abart questo è evolution quello là dove all'inizio devi fare il protozoa devi fare la cellula lì ragazzi siamo già a quasi dieci minuti dei video non ho concluso un cacchio quindi sbrighiamoci con sta cassetta a riavvolgerla anche perché vi ho dovuto raccontare degli aneddoti delle cose che non erano necessarie assolutamente comunque andiamo a non devo fare troppo veloce sennò il nastro si inghippa ok infatti si sta inghippando il nastro non va bene ragazzi non si deve inghippare il nastro allora intanto andiamo a vedere la prossima che se mentre lo finisco ah si è fatta sono riuscito a riavvolgerla vediamo un po il nastro è rosso bellissimo e andiamo a rimetterla al suo posto va messo prima il libretto eccolo poi ricordo tutti questi giochi se volete ci possiamo giocare nella rubrica edicola c64 ok uso una selezione di questi giochi poi vediamo poi vediamo un po prossima cassetta commodore games numero uno questa mai vista mai coperta questa qua mai vista sta commodore games che ha mai non ne abbiamo mai parlato di sta collana vediamo un po dentro cosa c'è sono molto curioso cerchiamo ovviamente di non rovinare nulla della cassetta originaria distruggiamo solo le etichette applicate da quei disgraziati del mercatino allora vediamo un po ah c'è scritto il nome dei giochi fire drill pirati che mi sa che quello là dei specie del gioco da tavolo con i pirati core mind lupenio e slinky no questi sono giochi italiani fermi tutti questo è come queste ricordate io sul nella rubrica edicola c64 ho portato la cassetta the 64 magic games quella cassetta con i giochi di albert genelletti e di altri autori italiani c'era chobin c'erano altre questa è una di quelle cassette perché poi visto che 64 magic games non aveva avuto successo l'hanno fatto un'altra collana l'hanno richiamata in altro modo questo è commodore games se ricordate noi a slinky immoroder ci abbiamo giocato pure a lupenio ci abbiamo giocato io questa cassetta l'ho portata sul canale in versione virtuale e adesso ce l'ho qui tra le mie mani questo è un pezzo da collezione su tutti i giochi italiani veri originali questi sono non so giochi straniere a cui è stato cambiato il nome questi sono tutti i giochi italiani originali ragazzi e c'è anche lupenio mitico lupenio l'ho portato sul canale e c'è anche slinky immoroder che però non mi era piaciuto francamente era quel gioco fatto col game creator dei fratelli darling e poi fire drill era quello del quel puzzle game con il come si chiama con il vigile del fuoco che si deve svegliare e deve uscire dalla caserma poi pirati è quello di albert geneletti il gioco mitico che c'ha la musica del cartone flola piccola robinson ricordate alla fine della puntata ci ho messo pure un pezzetto da sigla di flola piccola robinson con la canzone dei con la sigla dei cavalieri del re che era questo gruppo degli anni 80 ragazzi questa cassetta è mitica purtroppo non c'è il manualino allegato non c'è il librettino allegato con le spiegazioni tutti i giochi però questa è una cassetta leggendaria ragazzi questa è una cassetta leggendaria color mind anche era un puzzle game che mi pare che ci fosse una immagine digitalizzata di una donna come schermata dei titoli se non erro ok ragazzi questa cassetta è epica io sono contentissimo questo è un gran ritrovamento perché c'è pirati di albert geneletti questa è roba grossa ragazzi fantastico grande ritrovamento in questa puntata vediamo un'ultima cassetta no un'ultima forse le vediamo tutte aspettate allora qua c'è un coso ah aspetta questo è un tizio su una moto non si capiva questa è una moto questo è un tizio ma aspettate ma è monocromatico questa non è una cassetta del commodore 64 questa è la cassetta dello spectrum ma quindi il tizio del negozio non le aveva vendute le cassette sono queste le cassette dello spectrum ragazzi c'è stanno qua in mezzo le ha messe in mezzo alla cassetta del commodore 64 vabbè allora il commesso è una brava persona sicuramente però dei videogiochi e dei computer d'epoca non ci capisce niente e questa qui infatti è la cassetta dello spectrum e dentro non c'è scritto neanche che giochi ci sono eppure questo è da mandandiero ma poi lo farò da se no famo notte ok e non c'è scritto la lista dei giochi non lo sappiamo la dobbiamo cercare su ogni rete per vedere che giochi ci stanno dentro e poi magari su edicola c60 nella rubrica edicola c64 farà anche una puntata speciale spectrum dove parleremo di questa cassetta ok vediamo un po se tanto mi da tanto ci sarà anche un'altra cassetta spectrum infatti anche questo è spectrum super sync si chiama sync come sinclair no e j soft c'è scritto apriamo anche questa della jackson come quella di prima ok vediamo un po che troviamo qua eccolo qua super sync questa pure è da mandandietro ok versione zx spectrum vediamo un po che roba c'è qua ci sono dei giochi attacco atomico campo battaglia tre topi la diga supercar guardate che non toccate mi sanno questi dei giochi guardate che c'è scritto gli arretrati mi sa questa dei giochi in basic nel basic dello spectrum ovviamente fatti da italiani questi secondo me sono giochi oppure questi sono giochi originali nel senso giochi non copiati da giochi stranieri ma giochi realizzati da italiani magari in basic anche questa magari la vedremo in una puntata speciale di edicola c64 ultima cassetta se tanto a metà tanto pure questo è do spectrum e infatti ci abbiamo super pacman scinautico e poi xanadu questi sono tutti i giochi spectrum vediamo un po' vediamo un po' se riesco a aprire senza danneggiare ok fatto e non si apre ah ah perché pure dietro è qua da aprire ok questa costa un po' di meno due ore e venti ok vediamo un po' ci abbiamo introduzione super pacman scinautico xanadu chissà che gioco è xanadu forse ispirato al film quello con le musiche degli electric light orchestra degli elo ok vediamo un po' la db ah qua è un po' rovinata mannaggia ci metto un po' di colla ovviamente la colla brit degli anni 80 ci devo mettere giustamente per autenticità storica poi appleman snort cowboy magazzino e prossimamente che non è un gioco evidentemente è un'anticipazione con la lista dei giochi che presentavano nel numero successivo ok non male non male dai anche se questa non c'ha nessun nessuno sleeve cioè nessun come si dice inlay nessun inlay di carta però va bene dai queste sono tre erano dello spectrum a sorpresa a sorpresa ok finiamo vi faccio anche queste qui che sono quelle dell'armati ok si ci rientriamo coi tempi dai armati che è un gioco di basket penso che sia il seguito di one on one uno contro uno no no non mi dica l'ho rovinata no per fortuna no pare che non l'ho rovinata oddio mi sembrava di averla rovinata mi sono preso un colpo allora che è un gioco eccolo qua commodore 64 oppure questo è da mandare indietro gioco di basket non vado pazzo per giochi sportivi però è pur sempre un gioco da collezione poi altro gioco strano questo qui sempre dell'armati stavolta avrò così per essere sicuro che non lo rovinà si chiama info quiz 100 quiz di informatica verifica la conoscenza della materia con una serie di test qua mi sa che tipo un gioco un basic che è tipo uno di quei test che andavano in moda negli anni 80 ci sono dentro 100 domande sull'informatica interessante magari a questo pure ci giocheremo questo penso pure che sia un gioco italiano di solito i giochi armati erano giochi stranieri come questo copiati a cui non cambiavano neanche il titolo pensa un po' invece questo mi sa che è un gioco italiano realizzato in italia in basic poi magari ne parleremo chissà se è stato dampato sicuro che questo non è mai stato dampato non si trova in rete devo controllare poi ultimo andiamo a vedere il gioco questo mi è costato una quaresima l'ho pagato 12 euro fondamentalmente eh si voi direte ma come spendi 12 euro per hercules slayer of the damned un gioco che zap definì come uno dei giochi più brutti non è un gioco tanto brutto quanto diceva zap ragazzi mettiamoci il cuore in pace zap a volte esagerava un pochino ok ok qua dietro ci sono le schermate del gioco è un picchiaduro con hercole le musiche del sto gioco sono bellissime è un picchiaduro particolare dove mentre i pesti o il minotauro o gli scheletri di reia riausen devi anche colpire delle icone che arrivano dall'alto e che rappresentano le 12 fatiche di hercole scopo del gioco è completarle ah hanno sbagliato a scrivere qua ha scritto hercules and the damned è il dannato ma non si chiama così il gioco si chiama slayer of the damned è diverso e dentro ci sono anche le istruzioni eccole ah ma aspettate un attimo aspettate un attimo ma sono in francese queste istruzioni ma porca mignone no sono in inglese e in francese italiano lo so dimenticato però si sa che era così all'epoca e ragazzi ultima cosa ho intravisto che nella cassetta di one on one c'è anche quelle sono musicassette non contano niente regà mi servono solo per fare allora one on one c'è anche le istruzioni eccole qua che stanno all'interno dell'enlay e non le abbiamo viste perché stanno inguattate qua guardate un po' sta cosa la facevano su poche cassette armate guardate un po' ci sono le istruzioni del gioco sta cosa mi ricordo stava in movie monster game ok ma beh ragazzi per questa volta è tutto questo era il secondo unboxing fantastico abbiamo finito questi giochi li vedremo uno a uno nella rubrica di goal 64 prima o poi li porto tutti i giochi mi stava preoccupato ciao ragazzi alla prossima ciao ciao